benvenuti a calciatore della domenica la rubrica dove insieme scopriamo i migliori calciatori di giornata in serie a ma non solo al solito vi chiedo di lasciare un like a questo video e molto presto vi prometto che vi porterò una nuova rubrica ma andiamo subito a noi andiamo subito a scoprire i cinque calciatori di giornata nella quindicesima giornata di serie a la prima di questo nuovo anno 2020 2021 il primo calciatore protagonista di giornata è cristiano ronaldo anno nuovo solito cristiano ronaldo il portoghese contro l'udinese è autore di due gol ed un assist due gol con il quale raggiunge quota 758 diventa il secondo marcatore di sempre nella storia del calcio in gare ufficiali il secondo calciatore protagonista di giornata è mattia zaccagni e la più grande rivelazione del campionato finora qualità e quantità gol ed assist trascina il verona giornata dopo giornata contro lo spezia in questa quindicesima giornata è autore di un gol straordinario di rovesciata caro roberto mancini lasciamo stare in signe bernatteschi zaniolo diamo la maglia numero 10 a mattia zaccagni il terzo calciatore protagonista di giornata e lautaro martinez l'argentino ha raggiunto quello step in più è un vero top player merito anche di romelo lukaku nella vittoria contro il crotone 6 a 2 l'argentino mette a segno quattro gol anche se nel tabellino poi saranno solamente tre perché il secondo gol verrà dato come autogol di marrone ma lautaro ha mandato un messaggio un po a tutti non segna solo lukaku so segnare anch'io il quarto calciatore protagonista di giornata è zielischi il napoli senza attaccanti senza i suoi attaccanti principali mertens e dosi trova nel polacco il giocatore che fa la differenza a cagliari zielischi trova due gol e domina la tre quarti il quinto calciatore protagonista di giornata è duvan zapata l'hanno dato per finito non sa più segnare ma duvan spacca la porta e la sa ancora spaccare l'atalanta vince contro il sassuolo con un secco 5 a 1 il colombiano mette a segno due reti come al solito ragazzi è difficile fa farlo ma bisogna scegliere ho lasciato fuori giocatori del calibro di zeko belotti goiak ma di questi cinque il calciatore della domenica di questa quindicesima giornata di serie a è lautaro martinez adesso come al solito uno sguardo oltre manica al calcio inglese dove pensate un po tra la prima e la sesta in classifica ci sono solamente quattro punti di distanza sono tutte lì vicine il liverpool in manchester united in manchester city il tottenham leverton in leicester in questo weekend si è giocato il big match tra celsi e manchester city il city ha vinto 3 a 1 si è poi giocata anche tottenham leeds la sfida tra due maestri del calcio come josé murigno e loco bielsa ha vinto il tottenham 3 a 0 grande protagonista henry kane autore di un gol ed un assist l'inglese è il primo calciatore nei cinque principali campionati europei a raggiungere la doppia cifra in assist e in gol in questa stagione adesso come al solito concludiamo con il gol da vedere rivedere della domenica rimaniamo in terra britannica non è un gol bello è un gol diciamo speciale nella sfida tra leicester e newcastle il leicester vince 2 a 1 il newcastle trova il gol grazie ad endy carroll si avete capito bene il futuro attaccante l'attaccante del futuro della nazionale inglese colui che doveva spaccare il mondo non segnava da ben due anni in premier league non segnava da ben dieci anni con la maglia del newcastle come al solito ragazzi vi ringrazio continuate a seguirmi adesso ci vediamo venerdì perché già domani si gioca il turno infrasettimanale il turno dell'epifania della sedicesima giornata di serie a vi ringrazio continuate a seguirmi al prossimo calciatore della domenica